Ciao bello a tutti, con Raffaele, questo è uno stronzo, questo è sul caso di Annaiello, se ancora non vi siete iscritti non vi iscrivetevi, perché è un paziente, scherzando e scriveteli, subito sotto i commenti che vi c'era, però Guero lui è macchina mortale di Guero, Guero, cazzo! Scriveteci anche le challenge che possiamo usare, è il vlog che è il vlog, ma tra le mangiare un cactus o... Cazzo? Gli aghi? Gli aghi, sono dei mani di si fanno mangiare gli aghi, mi hanno deciso tutti quanti! Però la macchina mortale sta sotto la bossa letta! C'è Ted sotto la bossa letta! Avevo anche un video sotto al mare! Vabbè, quindi... No, perché mi compro la proteina del telefono! Sebo! Faccio come Luque! 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 Se sapete qua VJ, si vedevi anche il suo canale, perché è molto... stronzo, ma che è molto... è molto scegliato! E' molto scherzandolo gay! E' molto intelligente, vabbè, mi conosce molto! E' iscrivetevi al canale di Belen! E' molto sexy! Cosa ti ha detto? Che ti ha detto? Che ti si scrivesci da un bacio in bocca! E ti vede la scuola! E' molto giusto! Quindi... riscrivetevi! Io già mi sono scritto e stai aspettando... ancora la so un po' prostadine! I matrimenti! si chiama belen pigiangolo fa schifo oh, pronto ah, l'attrax da un camionax mi sto muro che sto troppo da ma io non faccio già bici ma io non faccio 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 che collo che stavo facendo fa un caldo cane qua la cera se venite qua la cera morite di caldo e anche di calvizia e anche di polca bruttana che ha rossinato a me anche di calvizia ecco qua lì ah, la fratella fa un bel ti è bloccato oh, subito oh subito ok oh oh mamma mia mi chiamo felice si, di malice poi non si dice apri due capi non è malice la luce ti metto pure, sai? non è malice la musica nooo 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 ah lui ci piace la banana non è vero mi piace la patata e la pananona E' molto buio la mattina se l'ha il fuccio ma la frutta però eh non pensate a quello che pensate a noi, è affitto il beviglio d'olio gli spaccò il joystick davanti proprio alla faccia ce lo rompono ma lui pensa che riesce il primo tempo qua io non cambio nessuno no io non cambio nessuno ho cambiato solo mi attenzio ehm super matte boy lo farò il continuo adesso non lo farò tutta l'incontrata lo farò bene dritto se avete sotto i commenti se vi piace il mio blog se ancora non mi siete scritti iscrivetevi vabbè continuiamo a giocare vai 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 . Vai Mertens vai Mertens c'è ancora un vizio dei mesi c'è che vita, c'è che amore ve lo dovete vedere è un filmo fuori oh ma non c'è nessuno devo mettere ho potuto vedere con me la latte si ho potuto vedere con me la getta si da la 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 e sul casa c'è come si chiama questo no e tu si chiama prego 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 anzi e fin con cac e che mi butti aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah che ho dicevo prima un artista aspetta comunque è l'unica e poi dopo che ti prendi non sa c'era quando richi ha tu eh proprio si si ecco aspetta che puoi Poi ci taglierai i video per la coppia. Sei gay? Sei un bi-sexy! Sei un bi-sexy! Ti rendi conto? Sei una sessuale! Stisci! Stemo! Com'è via? Com'è via? Com'è via? Paroco! 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 Puglieci non fai! Genna di assi! Ma lui di testa! Sbaglia tutto! Lo hai scoperto! Ma non si è preda! Non si è preda! Non si è preda! Ma non si è preda! Mi sono fai! Che ho fatto? Mi sono fai! E' stato in amore di mia mamma che le ha cercato un pacchero alla sedia! Che cosa sta parlando? Che mi ha cercato un pacchero? Che cosa sta parlando? Aia! Ehm! Ma non fa niente! Raga! L'ho fatto al mio piccino! Perfetto! Ci può fare anche la rocchetta! Che cosa? Che non mi segnerà mai! E' vero che mi ha segnalato i Gicoli! Ma non... D'ecunizione in mano non mi ha segnato! Che mi segnate? Si! Un po' adesso si! Senta si che ca' un po' adesso! Un pirla però già! Un pirlo! Che lui è una pirla! Pirlo è pirla! Allora, mio cognato è giuventino e io sono napoletano, quindi quando giochiamo con l'Xbox o con la bestia shopping fa... Allora, amico, oh, gli schiupai due guai, la... Può fare l'esterno. Oh, ok. Perfetto. No, mi no. La sorella fa... La sorella fa il pallone. Perfetto, una cosa diversa, va bene. E' difficile il palloncino. Bisogna per fare per una cosa diversa. Ma è una cosa scena. No, perfetto. Pallone che si gioca, che si gioca, no, pure l'altra cosa. Pallone. Che si gioca, possiede un'altra cosa. Ma perché che l'altra cosa si chiamano? E' un bello, se il pallone si è voluto a tenersa. Ciao, ragazzi. Se ancora non vi siete iscritti al vostro canale, iscrivetevi. Se ancora non vi siete iscritti al mio, iscrivetevi. Ciao, bello a tutti, ragazzi. Ciao, ragazzi.